Chi ascolterà mai questa tua voce solitaria? Nessun potere riuscirà mai a soffocare la voce del mio cuore. Centinaia di braccia di tessuto sono state divorate. I broccati destinati ai mercati d'Oriente. Ridotti in polvere. E i velluti in partenza per le corti d'Europa. I morsi dei reuditori non hanno risparmiato quei nobili tessuti. Ahimè! La porpora dell'imperatore. Il cencio non il saio ma lo scettro e l'ermellin sono dovuti al pifferaio salvatore di Amellin.